Bentornati! Ci siamo lasciati la volta scorsa con un esercizio tutto nuovo, ovvero creare qualcosa utilizzando le primitive di Blender e spero che questo esercizio vi abbia dato l'occasione per allenarvi, per prendere confidenza con Blender. Quello che vedete a Monitor è un esempio di quello che si poteva fare con delle semplici primitive. Ho inserito delle sfere, dei cubi e come potete vedere anche una figura che in apparenza non fa parte delle primitive di Blender, ma invece vedremo che questa figura si può inserire semplicemente utilizzando un cilindro con tre lati e spero nel fare questo esercizio abbiate notato alcune cose. Per esempio a volte sarebbe comodo poter nascondere delle mesh per poter vedere cosa c'è sotto. Quando per esempio vado a inserire un nuovo oggetto con Shift A, mettiamo che voglio inserire un cubo, ecco questo mi compare però dentro alla scena che ho già realizzato, perché il cubo viene inserito all'altezza del 3D cursor, quindi potrebbe essere comodo poter momentaneamente nascondere questi oggetti. Lo possiamo fare selezionandoli e premendo il tasto H, oppure possiamo utilizzare l'outliner con questa icona a forma di occhio. Cliccando con il mouse possiamo visualizzare o nascondere ogni singolo oggetto. Questo ci può aiutare per andare a lavorare meglio nelle zone un pochino più nascoste. Vi faccio notare, come abbiamo già detto anche in una lezione precedente, che possiamo cliccare e trascinare col mouse per applicare questa modifica a tutti gli elementi che sono nell'elenco. Quindi possiamo con un gesto molto veloce andare a nascondere e rivisualizzare molto velocemente qualsiasi oggetto. Se vogliamo invece lavorare esclusivamente con l'abbreviazione della tastiera, con il tasto H nascondiamo l'oggetto, con l'abbreviazione Alt H invece torniamo a rivisualizzare tutti gli oggetti che sono stati precedentemente nascosti. Però un'altra cosa che avreste potuto notare è che piuttosto che andare a inserire il cubo per poi andare a cercarlo in mezzo agli altri oggetti, avremmo potuto semplicemente far comparire il cubo in un'altra posizione, per esempio fuori da queste sfere che sono già state inserite all'interno della nostra scena. Come fare? Bisogna spostare il 3D cursor. Per fare questo è molto semplice, si tiene premuto il tasto Shift e si fa clic con il tasto destro del mouse nel punto in cui si vuole andare a spostare il cursore. Per esempio vogliamo fare in modo che il prossimo oggetto compaia sulla superficie di questa sfera, teniamo premuto il tasto Shift e facciamo clic con il tasto destro nel punto che desideriamo. Ecco che il 3D cursor si sposta e se andiamo a inserire un nuovo cubo o un qualsiasi altro oggetto questo comparirà nella posizione desiderata. Un'altra cosa che potreste aver notato è che selezionare gli oggetti si è comodo con il tasto sinistro del mouse, però a volte si ha la necessità di poter selezionare più oggetti contemporaneamente o comunque riuscire a gestire una quantità notevole di oggetti e quindi con il semplice clic del mouse si può far fatica. Vedremo come Blender ci viene in aiuto proprio per la gestione degli oggetti nelle scene più complesse e anche appunto per la selezione di questi oggetti. Infine un'altra cosa che spero abbiate notato è che i manipolatori, ad esempio quello di spostamento, non sempre possono essere utilizzati come noi vorremmo. Ad esempio prendiamo il tetto di questa casina se volessimo farlo scorrere avanti e indietro rispetto alla sua direzione con il manipolatore di spostamento non potremmo farlo perché se andiamo ad agire sugli assi x o y questi non sono ruotati rispetto alla rotazione del tetto e quindi ci troviamo ad eseguire degli spostamenti indesiderati. Bene nella lezione di oggi vedremo un po' come risolvere tutte queste cose però vi invito a scrivere nei commenti di questa lezione quali sono le difficoltà che avete incontrato voi se vi sono venute delle idee delle necessità qualche comando che avreste desiderato poter avere qualche strumento che è venuto in mente magari potessi aver avuto questo strumento ecco scrivetelo nei commenti scrivete quali sono state le vostre difficoltà e magari anche come l'avete risolte. Bene come facciamo per spostare questo tetto in modo che scorra lungo la sua direzione e non lungo gli assi x e y globali blender ci dà la possibilità di lavorare anche con gli assi locali ovvero le coordinate che si porta dietro l'oggetto se volete utilizzare anche voi questo file vi lascio il link nella descrizione di questo video in modo da poterlo scaricare liberamente e andiamo a vedere insieme come fare per spostare per esempio questo tetto lungo la sua direzione dovete sapere che blender si mette a disposizione non solo le coordinate della scena x y z che abbiamo già imparato a conoscere ma ci dà la possibilità di utilizzare anche dei diversi sistemi di riferimento questi sistemi li possiamo selezionare in questo menu qua in alto in questo momento è selezionato global ovvero gli assi di riferimento globale della scena ma se facciamo clic in questo meno tendina vediamo che ci sono molti più tipi di sistemi di riferimento e oltretutto questo piccolo più che vediamo di fianco a global ci suggerisce che possiamo ottenere anche qualcosa di più ovvero potremmo addirittura ottenere dei sistemi personalizzati dei nostri sistemi di riferimento ma concentriamoci per il momento sul nostro tetto senza che global andiamo a selezionare local vediamo che le frecce del manipolatore sono cambiate l'asse z è andato nella direzione delle falde del tetto e gli assi x e y si sono spostati di conseguenza ma come fa blender a capire come deve girare queste frecce cosa vuol dire assi locali al contrario degli assi globali se andiamo a visualizzare le informazioni sul nostro oggetto premiamo il tasto n se non abbiamo la barra laterale destra aperta e andiamo nel tab item quindi vediamo le informazioni sul tetto queste stesse informazioni le troviamo anche qui all'interno del pannello object della finestra delle properties io preferisco utilizzare la barra laterale destra perché così sono libero di poter visualizzare contemporaneamente anche altre informazioni in questa finestra a parte comunque siete liberi di utilizzare tranquillamente anche questo editor vediamo che questo oggetto risulta ruotato lungo l'asse x di meno 90 gradi lungo l'asse y di 180 gradi mentre sull'asse z di 57,798 gradi e grazie a questi numeri che blender capisce come l'oggetto ruotato e quindi quando noi andiamo a dire utilizza gli assi locali lui ricava le informazioni sulla posizione delle frecce proprio da questa terra di valori di rotazione quindi adesso una volta abilitato il sistema di riferimento locale potremo tranquillamente far scorrere il nostro tetto in avanti indietro destra sinistra in maniera molto semplice anche nel caso dell'applicazione della scala può essere utile almeno visivamente avere gli assi locali per poter capire come stiamo allargando stringendo la nostra figura seguendo la sua geometria un altro esempio dell'utilità degli assi locali lo possiamo vedere andando a realizzare le finestre di questa casa potremmo semplicemente utilizzare questo cubo lo duplichiamo con shift d quindi lo scaliamo e andiamo a posizionare la mesh come se fosse una finestra se non avessimo avuto a disposizione gli assi locali questo sarebbe stato un lavoro molto più difficile facciamo una prova torniamo agli assi globali quindi duplichiamo il nostro cubo lo scaliamo e adesso se vogliamo andare a posizionarlo sulla facciata della nostra casetta sì ci possiamo anche riuscire ma non è assolutamente una cosa così banale perché non possiamo utilizzare direttamente le frecce dobbiamo andare un po per tentativi mentre invece passando agli assi locali il gioco diventa molto molto più semplice per chi invece preferisce utilizzare lo spostamento la scala o la rotazione esclusivamente tramite l'abbreviazione da tastiera c'è la possibilità comunque di spostarsi sugli assi globali o locali facciamo una prova rimettiamoci nel sistema di riferimento globale quindi andiamo a duplicare nuovamente il nostro cubo con shift d e poi lo spostiamo con il mouse bene vogliamo fare in modo che questo si sposti parallelamente alla casa se premiamo una volta sola il tasto x si attiva l'asse x globale cioè quello della scena ma se premiamo una seconda volta x ecco che vediamo che l'asse si allinea alla rotazione del cubo quindi se premiamo due volte la lettera di un asse blender capisce che non vogliamo utilizzare il sistema di riferimento globale ma vogliamo utilizzare il sistema di riferimento locale poche parole possiamo lavorare tranquillamente utilizzando l'abbreviazione da tastiera senza utilizzare manipolatori perché sappiamo che possiamo richiamare al volo il sistema di riferimento locale premendo due volte la lettera dell'asse richiesto facciamo ad esempio una scala lungo l'asse y quindi premiamo s y però per poterlo scalare in maniera parallela all'andamento della casa premiamo una seconda volta y ed ecco che adesso la scala avviene nella direzione desiderata fate qualche prova fate qualche esperimento liberamente bene vediamo adesso come blender ci aiuta invece a selezionare gli oggetti abbiamo visto che possiamo selezionarne uno alla volta e con il tasto shift come faremo in qualsiasi altro software possiamo aggiungere oggetti alla selezione quindi se noi facciamo click tenendo premuto il tasto shift gli oggetti si sommano alla selezione e l'ultimo oggetto selezionato avrà sempre questo contorno arancione più chiaro che vuol dire che l'oggetto attivo l'ultimo oggetto selezionato vedremo poi più avanti l'importanza di questo oggetto tuttavia questo potrebbe non essere il sistema di selezione più veloce vediamo cos'altro ci viene dato a disposizione quando si parla di selezione parliamo proprio dell'abc sono tre lettere che possiamo utilizzare per selezionare in blender con il tasto a si seleziona tutto facciamoli insieme vedete si sono selezionati tutti gli oggetti della scena e lo vediamo anche all'interno dell'outliner per deselezionare tutto premiamo due volte il tasto a in rapida successione quindi a a e blender deseleziona tutto un altro sistema per deselezionare tutto è utilizzare l'abbreviazione da tastiera alt a con il tasto b si va a richiamare la selezione mediante finestra vedete che si è attivata una croce e questo ci consente di tracciare trascinando con il mouse una finestra di selezione che ci va a prendere tutti gli oggetti che vengono intersecati o che sono comprese all'interno della finestra vi invito inoltre come in tutti i comandi di blender a vedere quali sono le opzioni che ci vengono messe a disposizione durante l'esecuzione del comando in basso a sinistra fate sempre qualche esperimento infine abbiamo il tasto c col tasto c viene visualizzato un cursore che può essere ingrandito o ridotto tramite la rotella del mouse e con questo cursore possiamo andare a cliccare trascinando pennellando come se fosse un pennello che va a selezionare tutto ciò che viene toccato anche in questo caso in basso a sinistra vediamo tutte le varie opzioni l'equivalente dei tasti a b e c li troviamo qui sulla sinistra nella tool shelf se facciamo clic otteniamo la selezione tramite riquadro non si vede il cursore a croce ma il riquadro è diciamo attivo di default se clicchiamo e teniamo premuto vediamo anche gli altri tipi di selezione ovvero la selezione circolare oppure la selezione mediante la figura geometrica irregolare quindi possiamo tracciare il percorso per andare a selezionare più oggetti contemporaneamente vi invito a fare delle prove provate tutti questi comandi di selezione e contemporaneamente provate anche i tasti a b e c il sistema di selezione comunque non finisce qui renderci mette a disposizione un sistema di selezione molto più raffinato con dei comandi molto potenti vedete infatti che c'è un vero e proprio meno chiamato select e se volete approfondire l'uso di questi comandi di selezione vi segnalo le lezioni sulla modellazione in blender che trovate sempre all'interno di questo canale e di cui vi metto il link nella descrizione di questo video bene per questa lezione tutto come esercizio per la prossima volta vi invito a sperimentare l'uso degli assi locali e globali e andare anche a sperimentare in autonomia l'uso degli altri tipi di sistemi di riferimento provateli provate a vedere che cosa succede non abbiate paura tanto sappiamo già che non potete fare danni un'altra cosa che mi invito a sperimentare sono i sistemi di selezione e se avete piacere di andare a vedere anche le lezioni di cui vi metto il link nella descrizione del video proprio che vanno a trattare in maniera più approfondita i sistemi di selezione in blender come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo presto